Buonasera a tutti gli amici di Daily Basket, siamo felici di cominciare con voi con una serie di live chat che vedranno protagonisti, almeno inizialmente, gli italiani che più si stanno distinguendo all'estero. Non parliamo tanto di giocatori quanto di dirigenti, di persone che stanno dietro a strategie e programmazioni vincenti. E quindi non potevamo che cominciare con Daniele Baiesi, direttore sportivo del Bayern Monaco, ex Bamberg, ex capo scout NBA a Detroit ed ex Biella, dove ormai più di dieci anni fa fu artefice di un piccolo miracolo sportivo. Buonasera, lo mettiamo subito in streaming, buonasera a Daniele Baiesi. Buonasera a voi, bentrovati. E visto che vogliamo tornare a canestro qui su Daily Basket con le grandi firme, bentornato anche a Werther Pedrazi. Buonasera, buon ritrovati. Ben ritrovati Nicola, Baio e Andrea, prossimo venturo. Esatto, c'è con me anche Andrea Rizzi, a cui diamo il benvenuto, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, io volevo cominciare con la più banale delle domande, però il nostro appello è a tutti quelli che ci stanno seguendo. Mandateci messaggi, scrivete nei commenti le vostre domande. E prima di lasciare la parola a voi esperti, partiamo dal posto in cui si trova ora Daniele, o il Baio, come lo chiamano tutti, a Milano, perché insomma domani il Bayern comincia i suoi primi play-off di Eurolega, una partita di cui parleremo più tardi. Quanto pensi, Baio, ci sia del tuo lavoro, della tua programmazione in questo straordinario risultato? Ma lo chiede la persona sbagliata, io posso solo dire che qualche giorno fa mi hanno chiesto come mai che all'atto della qualificazione mi fosse emozionato così tanto. La mia risposta è stata che vedere il lavoro fatto da squadra e staff è stato un motivo di grande orgoglio ed ero proprio commosso perché secondo me il lavoro è stato straordinario. Dalla A alla Z e ovviamente gli artefici del nostro piccolo miracolo sportivo in Eurolega di quest'anno sono i giocatori, gli allenatori e ovviamente tutti quelli che in prima fila non ci vanno mai ma che dietro le quinte remano e remano forte. Andrea? Sì, io volevo partire proprio dalla, diciamo, una delle prime cose che un dirigente deve scegliere che è quella che è l'allenatore. Tu ne hai addirittura portati due italiani al Bayern quest'anno. Volevo però fare un discorso più generale sugli allenatori stranieri in Bundesliga. Se non ho contato male, le prime, credo, nove squadre attualmente classificate in Bundesliga hanno allenatori stranieri, spagnoli, italiani, slavi, americani e credo che in tutta la Bundesliga ci siano tre allenatori tedeschi, tre o quattro in totale. Dal tuo punto di vista di dirigente, come la vedi? Anni fa, parlando col general manager dell'Alba Berlino, Marco Baldi, mi diceva che in Germania c'è proprio un problema di scuola, di allenatori. Forse semplicemente c'è un grosso complesso di inferiorità. Tu come la vedi? La tua scelta è ricaduta per motivi che possiamo immaginare su Andrea Trinchieri e su Vertemati, ma qual è il tuo punto di vista da dirigente ormai, tra virgolette, tedesco? Intanto io sono un dirigente italiano che lavora in Germania. Non mi sento un dirigente tedesco. Tu sai che il mio lessico, per quanto riguarda la lingua tedesca, raggiunge ma non supera i 30 vocaboli. Ma sono d'accordo con Marco Baldi, nel senso che è una questione legata alla formazione e anche alla cultura sportiva del paese. La Germania è un paese calciofilo, questo, insomma, sa va a San Diep, perché direi che le sfide tra Italia e Germania sono proverbiate dal punto di vista calcistico. Purtroppo è una realtà che raccoglie meno di quello che le risorse darebbero la possibilità di poter raccogliere. Le società sono strutturate, noi abbiamo allenatori, per esempio, di settore giovanile che sono assunti a tempo pieno. è proprio diverso il contesto sociale, è diversa l'interpretazione del ruolo. Mi è capitato di sentirmi chiedere un'opinione circa, per esempio, vorrei registrarmi a questo sito dell'Eurolega, piuttosto che a un altro portale che offre clinico online fatto da allenatori di Eurolega, però, per esempio, capita di rado che gli allenatori nostri del settore giovanile vengano a vedere gli allenamenti di trinchieri. Allora, poi, ti capita di confrontarti con queste persone e dire, ma, cioè, vieni che è gratis a vedere il lavoro di un allenatore di Eurolega, non serve che tu spenda 2.000 euro per registrarti a questo portale, piuttosto che questo, insomma, chiamateli come volete, io non sono proprio banchissimo in cose. Però, per esempio, credo, anche perché è stato, più o meno è stata la mia esperienza, cioè imparare sul campo le cose che ti servono per diventare un dirigente, un allenatore o anche un giocatore, cioè al di là di quello che puoi apprendere by the book, è proprio il toccare con mano una realtà di un certo tipo. In Germania vedo che c'è grossa, così, reticenza, da questo punto di vista, reticenza o renitenza, adesso non mi ricordo qual è il termine dei due, però non hanno proprio stimolo a interpretare le cose così come le interpretiamo noi. Diventa difficile spiegare, spiegare la realtà con cui ci si misura tutti i giorni da questo punto di vista, però credo che investino un poco sulla formazione di allenatori. Poi vado un po' controcorrente perché l'anno scorso, per esempio, noi come Bayern siamo stati pesantemente attaccati da qualche esponente della cosiddetta scuola tedesca, come mai le società non prendono allenatori tedeschi, non danno opportunità agli allenatori tedeschi. esistono ragioni tangibili, concrete, però aprire il vaso di Pandora in Germania non è una cosa così semplice, anche perché poi uno viene molto facilmente additato di essere il colono che viene a colonizzare un territorio che non è suo. quindi, sì, insomma, non è così semplice come si pensa. La cosa buona è che c'è una disponibilità di risorse che rispetto agli altri paesi europei è straordinaria. Adesso bisogna, diciamo, metterle un po' a frutto, ecco. Abbiamo per un attimo perso Werther, ma adesso è tornato, quindi gli diamo la parola. Werther. Werther? Werther, credo che tu sia sul... che abbia mutato il microfono. Sì, adesso lo... Werther, hai mutato il microfono. Io non sto riuscendo... Mi sentite adesso? Sì, vai. Prego. No, no, dicevo ero io che mi ero staccato un attimo perché sentivo veramente male una parola su cinque di quelle di Baiese. Vorrei riprendere con una battuta, ma se... Immagino che poi il colloquio ormai sui campi di Basque sia prevalentemente in inglese, però se limita il proprio vocabolario, io credo, con un eccesso di umiltà, a 30 vocaboli di tedesco, io penso che lui, quei 30 vocaboli siano stati quelli più azzeccati, visti i risultati che ha fatto col Bamberg e quello che sta costruendo oggi a Monaco. Quindi, riferendomi a questo, io ho una domanda, una curiosità. Prima di tornare, diciamo, alla contingente attualità di un play-off molto, 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 molto intrigante, sulla sua competenza. La famosa riunione dei sette general manager ad Atene, sostanzialmente, anche per informazione dei nostri lettori. Qual era il seme dello scontento, secondo te? Ma io non ero presente, quindi non... Anche qui fai la domanda alla persona sbagliata. In più le questioni di politica non è che mi catturino così tanto, devo essere onesto, perché per quello che posso vedere, insomma, per l'esperienza che posso avere, non solo nello sport, è un po' come il gatto ad un'ora, si cambia, bisogna cambiare tutto perché niente cambi, ecco. Spesso e volentieri ho sentito parlare di rivoluzioni, eccetera, però poi alla fine dei conti si è lì a parlare delle stesse cose. Evidentemente, se cambiano magari gli attori, ma il copione è sempre lo stesso, c'è qualcosa che non va nella trama del film. Quindi, per quello che ho potuto leggere, e ti posso garantire che non mi sono interessato della cosa, anche perché è veramente altro a cui pensare in questo punto, anche perché noi, al di là del playoff di Eurolega, avevamo anche una Final Four di Coppa infilata tra un playoff di Eurolega, una partita di campionato che poi è saltata per ragioni legate al Covid. credo che hanno questioni di, diciamo, legate alla leadership dell'Eurolega, ho capito bene, in base a quello che ho lei, però quello che so io è quello che sapete, anche perché nel momento in cui io non so, posso sempre rispondere che non lo so, capisci? Quindi non me ne interesso per il momento e aspetto che, quando le cose sono definitive, seriamente parlando... Un'indicazione l'hai data, e mi hai dato anche una delusione, per carità, il Covid alla precedenza, ma io mi ero illuso che, dopo le vibrate proteste, tu e i trinchieri, qualcosa in Germania contasse, subito dopo la Merkel. Avevo pensato, e preferirei pensare, che il rinvio non fosse dovuto al Covid, ma a un'attenzione sportiva che voi avevate evidenziato. D'altra parte è peggio che sia per il Covid, ecco. Poi divago ancora un attimo... Guarda, Werther, se posso solo interromperti un attimo per completezza l'informazione... Posso io che interrompo, ovviamente, in Italia... No, 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 per l'amor di Dio, è che io poi l'uno contro uno divento immarcabile quando inizio a parlare, quindi... Poi vabbè, sono aperto il controllo. Però su questo ci tenevo a fare un'atterezza. Noi abbiamo protestato circa il calendario che prevedeva di giocare con il weekend, perché avevamo proposto insieme a questa data altre date alternative. Poi in Germania è passata la corrente di pensiero, che noi in realtà non lo avevamo fatto e siamo lamentati solo adesso. La realtà di fare un proposto di giocare in un weekend di maggio, non mi ricordo se primo, secondo o terzo, proprio perché aveva comunque senso, avremmo comunque messo in calendario delle partite di stagione regolare di Bundesliga nel weekend, non saremmo stati fermi. Però la decisione di giocare nel weekend in Germania, il calendario viene deciso dalla presidenza, che è composta tra gli altri da tre squadre che, guarda caso, erano i nostri avversari nella Final Four di Coppa. Quindi diciamo che a pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si prende. Noi ci siamo sentiti in dovere, quantomeno, di difendere il nostro lavoro e il lavoro della squadra. Poi, purtroppo, quando è accaduto il fattato dei casi positivi che si sono verificati, noi eravamo dentro lo spogliatoio con i giocatori sul lettino del fisioterapista che si facevano fasciare. Quindi non è che siamo riti a casa nostra, eravamo in hotel in ritiro ed eravamo già all'AudiDom per giocare al finale. Quindi non è che io ho spostato le montagne, è stata una circostanza del tutto fortuita la mia incazzatura con il conseguente rinvio, ma del tutto scollegato in un l'altro. Se mi consentono, Nicola e Andrea, dopo mi ritiro in buon ordine. Prego, prego. Ma ho una domanda. Anche qui tu dirai, no, beh, io non sono protagonista, però, sai, esistono anche i testimoni ben informati sui fatti. Allora, se non sbaglio, se non sbaglio, e se sbaglio, corregimi, a Bamberg tu abitavi o sopra o sotto nella stessa casa di Nicola Omelli e quindi hai una conoscenza sicuramente superiore e alla mia e a quella della mia. E quindi vorrei rivolgerti una domanda marzulliana, marzulliana, proprio alla Gigi Marzullo. Ma, secondo te, fa più fatica la NBA a capire Melli o Melli a capire la NBA? Ma, il problema, secondo me, sono due sistemi, Europa e NBA sono due sistemi completamente diversi, che si fondano su logiche e dinamiche che hanno poco a che vedere l'una con l'altra. Non più tardi di oggi pomeriggio discutevo con un esimio scout di una plurititolata franchigia e si parlava di giocatori europei che arriva di là con, per esempio, la nomea di essere uno stretch five. Melli arriva di là in quanto bianco, probabilmente poco atletico, con la nomea di giratori. In realtà è una nomea del tutto ingiustificata. Quindi, diciamo che, insomma, a parte il fatto che i pali li pigliano tutti, quindi non credo che succeda anche di là. Però, sai, osservare l'NBA con gli occhi di chi vive di qua, insomma, con lo sguardo all'Europa, è ovviamente un errore imperdonabile, perché piano piano ti porta fuori. Io ricordo un articolo di Federico Buffa, tempo fa, insomma, uno spicci di Federico Buffa, un'intervista, in cui diceva, parlando di Datome, quando io ero ai Pistons, Gigi dovrà tenere botta anche quando, proprio nel momento, ci saranno dei momenti in cui ti mette voglia di alzare le mani e dire, beh, a questo punto. Evidentemente è un sistema che quelli che sono in grado di, coloro i quali lo conoscono più approfonditamente di altri sono, come dire, in grado anche di prevedere alcune cose che possono capitare. A Gigi è accaduto esattamente questo. C'erano, e lo dico da ex scout, c'erano delle cose che erano onestamente inspiegabili anche per me. Però poi ha tenuto botta, è andato a Boston, ha avuto la sua possibilità e poi ha potuto scegliere se rimanere lì o tornare di qua. Io credo che Nicolò tiene botta, se terrà botta avrà la possibilità di trovare un altro buon contratto in una buona situazione, buona almeno quanto quella in cui è finito adesso. Grazie. Allora, io volevo sapere se a onor di cronaca la situazione è stata risolta in merito al vostro impegno nella Final Four di Coppa di Germania. È tutto da programma, quindi? Cioè il Bayern parteciperà, magari rinunciando a qualche titolare, ma si giocherà un giorno dopo l'Eurolega? Confermi. Non ne sono al corrente, siete più formati di me. Odestamente credo che abbiano tenuto una riunione oggi pomeriggio. Ok, quindi si sta cercando una soluzione a riguardo. Credo che ci siano al vaglio, diciamo, due opzioni. Entrambe, credo, intorno alla metà di maggio. Adesso non so dire se venerdì è sabato, sabato è domenica, domenica è lunedì. Non ho idea, però di questo stanno discutendo. Noi giochiamo dopo l'Eurolega, giocheremmo a Göttingen in una partita di stagione regolare di Bundesliga. Però credo che loro entrino, siano entrati adesso in una quarantena di 14 giorni. Quindi di 10 o 14 giorni. Adesso non ricordo di preciso quali sono le regole del Lender in questione. Quindi credo che anche quella partita verrà spostata, perché non penso che abbiano in campo il giorno dopo avere finito una quarantena di quasi due settimane. è accaduto a Bayreuth nel gironcino di qualificazione di Coppa. Credo che Mbze abbia fatto 150 punti di loro che uscivano da due settimane in pantofole a Cappatoio. Quindi non credo che, se c'è la possibilità, non penso che tendano a commettere lo stesso errore. Però non c'è una decisione definitiva ancora. È caduto purtroppo anche a squadre italiane. questo rientrare subito in campo dopo appena neppure un allenamento. È successo anche la Dinamo Sassari, per esempio. Abbiamo una prima... Dopo le regole giocano... Ok, sì. C'è Gildo Broggi che spiega la situazione del calendario del Bayern. Andrea, ti lascio la parola. Sì, volevo tornare su Monaco e tornare sugli allenatori, in particolare su Andrea Trinchieri, ovviamente, ma anche Bertemati. In un'intervista che hai fatto, credo un anno fa o qualcosa del genere, dicesti che Andrea è un lavoro a tempo pieno. Ecco, volevo capire adesso... Insomma, conosciamo un po' le montagne russe della tua esperienza professionale con Andrea e volevo chiederti a che punto è, non voglio dire la vostra relazione, ma diciamo la carriera di Andrea in questo momento, se lo vedi tranquillo, lo vedi come lo vedi negli allenamenti e in campo. E già che ci siamo, insomma, anche qualche parola su Bertemati che è la sua prima esperienza, anche se da vice a questo livello. La parola relazione mi ha un pochettino... Esatto! Non è un'altra fidanzata, ecco. Questo devo essere... Devo precisare. È che il ritmo del colloquio non mi permette anche di fare qualche battuta. Scusa di nuovo l'interruzione, vai. Ma no, ma non c'è niente di cui scusarsi. Sono chiacchiere leggere, fortuna, le facciamo dopo un bel traguardo sportivo, quindi sono molto sereno e... stiamo parlando di pallacanestro, non di fare interventi a cuore aperto. No, molto semplicemente, Andrea è una persona che ha il suo carattere, ha le sue opinioni, ha il suo modo di esprimersi. Io vi dico cose che ho già detto a lui in tempi non sospetti. È chiaro che il contesto di Bamberg è un contesto un po' particolare, nel senso che... lui è arrivato a Bamberg per affrancarsi. Adesso è arrivato al Bayern da affrancato. Credo che abbia preso molta consapevolezza di se stesso e anche di alcune cose che forse aveva dato per scontato prima. Uno degli errori gravi che ho commesso io, che mi freggio sempre della teorica grande capacità di abbracciare, embrace le diversità, fu non accettare probabilmente le sue peculiarità, che lo rendono ovviamente unico e di conseguenza diverso, diverso da sottoscritto, diverso dagli altri, esattamente come tutti voi e come sottoscritto. È anche vero che il contesto di Bamberg era un contesto molto stretto, quindi noi eravamo assieme praticamente, non voglio dire, 24 ore al giorno, però noi quattro italiani più melli, Bencardino, Perego, Baiese e Trinchieri, erano sempre appiccicati e come disse all'inizio dell'anno alla squadra, familiari di Bridge Contempt, cioè la gente si stufa gli uni degli altri, capisci? Quindi in una stagione in cui perdi 12 partite di possesso, alcune delle quali perse in modo così, diciamo rocambolesco, per non dire di peggio, con le motivi tipiche di uno sport come questo, io che sono una persona abbastanza morigerata, o meglio le sono diventato, però per forza, diciamo che ho brutto la mia candela da due parti, quindi sono durato metà del tempo. Monaco è più dispersiva, è un club ovviamente la cui magnitudo ti obbliga a una percezione della società diversa rispetto a quella di Bamberg, le persone con cui si ha a che fare sono molte di più, perché noi abbiamo alla fine un numero di dipendenti, adesso ovviamente molti dei quali sono in short work ovviamente, o kurzarbeit come si dice in Germania, però diciamo che alla fine siamo un'ottantina più la parte sportiva, quindi diciamo che ci sono tante facce, tutti molto giovani, e la città, la città di Monaco con tutto quello che ne segue, la sera ognuno va a casa sua, adesso diciamo che il coprifuoco ci aiuta anche a sopportarci di più, però insomma io ho sempre detto al mio club nel momento in cui io scelgo il medico, mi interessa che il medico sia bravo, non che fare l'omelette, o che mi faccia ridere quando parlo, mi interessa che sia capace di fare il medico, lo stesso vale per la tua, direi che insomma sfondiamo una porta aperta se diciamo che Trinchieri sa fare il suo mestiere, però insomma alla fine devo dire che nel bene o nel male il rapporto lavorativo con Andrea è sempre stato stimolante nel bene e nel male, dico una cosa un po' da culo, suona un po' da paraculo magari adesso, però per quanto io fossi, diciamo per quanto le nostre strade si fossero divise, fossero andate in direzioni, non dico opposte, ma di sicuro divergenti, qualche anno fa ho sempre avuto la consapevolezza che prima o poi ci saremmo rincontrati, perché ritengo che tra di noi ci sia un'affinità professionale che, insomma alla fine di cui entrambi beneficiamo, io perlomeno di sicuro fino ad oggi ne ho beneficiato, spero che lui possa dire altrettanto, non so se lo dirà, ma io di sicuro lo dico. Ma io non so se la connessione, ti sentiamo un pochettino a scatti, non so se hai modo di muoverti più vicino a un modem o qualcosa, oppure se la connessione dell'hotel è semplicemente così in qualche modo. L'hotel che quindi uso purtroppo nessuno è quella che è, magari, non so se mi sentite meglio ora, forse è leggermente meglio prima. Sentite? Sì, adesso si è bloccata l'immagine, però... Non ti vediamo, ma ti sentiamo adesso. Aspetta, che proviamo. Che potrebbero anche essere gli auricolari. Mi sentite? Sì. Mi sentite ora? Sì, benissimo. Eccoci. Volevo dirti. Sì, scusa. Prego, Vettel, vai pure, vai pure, vai pure, vai. No, volevo semplicemente dire che è molto bello quando, o quantomeno a me piace molto, quando sento che la ragione prevale non sul cuore, ma sull'emotività che a volte porta dei distanziamenti. Però, tuttavia, Daniele, non dirmi che sarà facile gestire, per esempio, questa sera, Andrea, che a Milano è nato nel 1968, nella stagione dei grandi fermenti, che lui può smentire quanto vuole, ma dopo aver iniziato, giovanili o cose che lui, se lui dice che non ha nella testa l'ambizione, forse oggi addirittura è arrivato a avere quella delle BIEI, ma prima che non abbia sempre avuto l'ambizione di essere il primo profeta in patria. Quindi, come lo vivi? È fibrillante questa sera? È in ebollizione con idee, con strategie? Così dopo parliamo anche, magari brevemente, della partita di domani. O lo vedi sereno? Ma la squadra è allenamento adesso, io sono in hotella a fare le interviste con voi, quindi, sia come si sta allenando la squadra, non ho idea. Lo imparo quando rientrano. Beh, io, adesso voglio dire, Andrea, normalmente, come dice mia madre, dove lo metti la sera, non lo trovi la mattina, quindi, non è che normalmente non è in ebollizione, è in ebollizione vita natural durante, non vedo grosse differenze. È sicuramente un allenatore ambizioso, però è anche, voglio dire, una persona dotata di un certo quali intelletto, e quindi sa quali sono valori in gioco, in una serie come questa. Poi, sai, lui è milanese, io sono italiano, sono cresciuto, per esempio, 23 anni fa, se non vado errato, sì, 23 anni fa, di questi tempi, Messina alzava l'Eurolega con la Virtus, ero in tribuna al Palangiordi da tifoso, quindi, se vogliamo aprire l'album dei ricordi, ognuno vuoi, ci sono tante, tante sfaccettature, noi torniamo in Italia da ospiti, diciamo, graditi o sgraditi, la cosa a me non interessa, però ci tieni sempre a fare, a fare bella figura, a rivedere persone che hanno stima di due, che magari, alcune delle quali hanno anche fatto un percorso professionale, hanno rappresentato tante. Di sicuro, Andrea avvertirà questo tipo di sensazione molto più forte, in modo molto più forte di quanto posso avvertire io, però ormai, tanti anni che siamo lontani dall'Italia, sia lui che io, penso che, insomma, dopo un po', ti passa anche, quindi, io che lui sia, devo dire, non ne ho parlato, e non ho intenzione di parlarne, credo che è molto intime, e per come sono fatto io, rispetto anche la, così, la riservatezza, di questo tipo di intimità, perché, se capitasse a me di dover tornare, con la squadra per cui lavoro, a giocare un playoff di Eurolega, a casa mia, insomma, sarà probabilmente, preso da molti pensieri, eccetera, e gradirei a essere lasciato in pace, tutto qui. per l'anno prossimo, o ha un contratto ancora con il Bayern? Lui non ha con il Bayern, e se, se la Virtus Bologna, è in, come si dice, in talks, in, oh madonna, diciamo, se sta parlando con la sua gente, noi facciamo la nostra gara, e so cosa stiamo facendo noi, con Andrea, con il suo agente, il resto, è fuori dal mio controllo, e onestamente, mi interessa anche poco, devo essere onesto, passiamo del rispetto. Una domanda, Baio, da Tobi Colangelo, ho fatto apposta, perché così, non avete sentito la risposta. No, io lo sento, no, infatti, infatti, ci stavo dicendo, si sente un po' a scatti, però, qualcosa che mi dico, perfettamente, è troppo la rifatta, per fare, per far battute, comunque, la possiamo riassumere per te, la risposta, Werther, è che fuori dal controllo, del Baio, la discussione, che Trinchieri, potrebbe avere con la Virtus, ma il Bayern stesso, sta parlando con il suo agente, per provare a convincerlo, a restare, quindi, questa è stata la sua risposta. E c'è una domanda, dal pubblico, da Tobi Colangelo, qual è stata, la sfida più grande, che Daniele ha affrontato, come direttore sportivo, del Bayern, da quando quindi, si è arrivato, ormai nel 2017. Ma è una sfida, che secondo me, va combattuta ogni giorno, ed è, diciamo, vivere, con il peso del marchio, che è sicuramente, un passepartout, sotto molti aspetti, perché quando chiami, sei piccolino, del Bayern, la gente tende ad ascoltarti, d'altra parte, dall'altro lato, diciamo, che è un po' una condanna, il marchio, perché, eh, ma noi siamo il Bayern Monaco, la realtà dei fatti, è che noi non siamo il Bayern Monaco, noi siamo, apparteniamo alla Gassia, però abbiamo, diciamo, 110 anni di stia, in meno, rispetto a quello che viene, così, viene in mente, quando si pensa al Bayern, uno pensa al Menig, Oliver Kahn, eccetera, 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 da noi, diciamo, che stiamo, piano piano, costruendo l'identità, e la cultura del club, e, è chiaro, che quando si tratta, di fare, non le rivoluzioni copernicane, però, costruire, eh, la cultura, partendo da, non dico zero, però, insomma, alla fine del conto, il Bayern, il canestro, una cosa, anche una costola del calcio, però un club, che è stato deciso, di costruire il laboratorio, poi, l'autenticità, si, si acquisisce, con il lavoro delle persone, con le sconfitte, con i fallimenti, eh, e poi, eventualmente, anche con le, le vittorie, io ho avuto, ripeto, la fortuna, di lavorare per squadra, che non ho sempre perso, più partiti di cammino, e mi è capitato a Biella, mi è capitato a Nemiglia, eh, fortunatamente, non mi è capitato a Lamberg, e, e fortunatamente, non mi sta capitando a Monaco, però, diciamo che, mi rendo conto, che è un percorso, la sfida più grande, è far capire a tutti, che non si schioccano le dita, il giorno dopo le cadono, è un percorso, e adesso si dice sempre, trust process, eh, sì, ecco, sembra, diciamo, un luogo comune, però è la verità, non, non si costruisce un contender, nell'arco di 24 ore, io una volta, mi ricordo, a Bamberg appesi, agli uffici, all'ufficio, alla porta dell'ufficio di tutti, eh, stampai, la storia del Fenerbahce, ho appena fatto, eh, la Final Four di Eurolega, e, insomma, il percorso del Fenerbahce, parlava di 16 anni di Eurolega, abbiamo perso Daniele, abbiamo perso Daniele, se riusciamo, se riusciamo a farlo rientrare, Andrea, eh, tu sei in contatto con lui, quindi, cosa migliore che, che gli scrivi, credo che stia tornando, vediamo, stia già tornando, eccolo, vai, puoi andare avanti, ti abbiamo recuperato, sono tornato, la connessione mi ha, mi ha buttato fuori, abbiate pazienza, ma non riesco a fare di meglio, dicevo, appesi agli uffici di tutti, diciamo, la storia del Fenerbahce, no, siamo a Milano città, devo dire, perché, dovendo stare una settimana, abbiamo cercato di, insomma, stare in un posto dove uno può anche andare a fare due passi, ed eventualmente provare di rilassarsi un attimo, uscendo dalla camera d'albergo, perché è tutto l'anno che viviamo, insomma, viviamo un po' reclusi, dicevo, mi ricordo che stampai appesi alla porta di tutti, per cercare di far capire, che non è, che siccome l'anno scorso, abbiamo fatto la top 16, allora l'anno prossimo, praticamente facciamo i playoff, la crescita delle società, raramente una linea retta, molto raramente una linea retta, e quindi, questa è la cosa più difficile da far capire, perché, in questo senso, il marchio pesa, perché, poi chi ci sta attorno, dice, vabbè, abbiamo fatto i playoff quest'anno, e l'anno prossimo la final four, insomma, non è che funziona proprio così, non funziona. Perché quest'anno la escludi la final four? se non dovessi, penso che debba accadere un meteorite di fianco al forum, perché accada onestamente, la logica dice questo, noi, il corollego abbiamo anche già vinto, se chiedi la mia opinione, siamo una squadra, adesso qualcuno ci ha definito, una specie di armata brancaleone, ma magari anche, guarda, io quest'anno mi sono veramente divertito, abbiamo un gruppo di gente incredibile, nel vero senso della parola, nel senso di non credibile, una volta un agente russo mi ha detto, you have a group of imperfect, of perfect imperfect guys, che è una definizione, secondo me, molto azzeccata, credo che aver fatto quello che abbiamo fatto quest'anno, possa servire da lezione per tutti, all'interno del club, sto parlando per spiegare, che cosa contare almeno, quando si allestisce un roster, quando si cerca di costruire un gruppo, non è un mistero, probabilmente pound per pound, la squadra dell'anno scorso, era meglio, era probabilmente più sbilanciata, quest'anno, questi hanno fatto click, delle volte succede, delle volte no, quest'anno è successo, siamo ben contenti che sia successo. Baio, se posso, visto che hai parlato di peso del marchio, del Bayern, vorrei portarti su un argomento, che ci porta un po' lontano, e poi magari torniamo a bomba, sulla serie di playoff, ma visto che hai parlato tanto di peso del marchio, c'è questa notizia, della scorsa notte, di questa famosa superlega del calcio, che dovrebbero, che si dovrebbe fondare, che di fatto, con le dovute proporzioni, è praticamente un'eurolega, del calcio, e quindi volevo chiederti, tu da, sia da dirigente del Bayern, sia da, da sportivo, semplicemente, non so se poi sei appassionato anche di calcio, qual è la tua opinione su queste superlega, pensi che, no, prego, Nel senso che non ci vuoi dare l'opinione, o? Non sono, no, nel senso che non sono appassionato di calcio, l'unico sport di cui, forse capisco qualcosa, poco, è la palla canestro, mi piace il baseball, guardo più volentieri il baseball e il calcio, sono andato all'Allianza Arena, a vedere una partita e mezzo, in quattro anni, quindi, insomma, non ho onestamente un'opinione, non sono informato sui fatti, non sono, non sono così addentro alle vicende, l'unica cosa che posso dirti è che, se il modello, se l'idea di modello, può, diciamo, essere, diciamo, il mio gradimento, bisogna anche vedere come poi il progetto viene messo in pratica, perché, stando dentro all'Eurolega, si vedono tante cose, che sono cambiate nel corso del tempo, quindi, bisognerà vedere come lo mettono in atto, e con quali tipi di principi, diciamo che tra NBA ed Eurolega, c'è ancora una bella differenza, non ho idea del calcio, per esempio, perché non ho quali sono i conti delle squadre di calcio, non ho idea se le squadre di calcio producano denaro, producano debiti, quindi, onestamente non so risponderti, direi delle scienze, diciamo che almeno queste fanno, ecco. Allora, abbiamo diverse domande dal pubblico, la prima, allora, io volevo cominciare, perché, chiedendoti una precisazione, quando hai parlato di 80 dipendenti fuori dal comparto sportivo, parli di tutta la polisportiva Bayer, non soltanto del Bayer Monaco Basket, questa era la mia domanda, a riguardo, no, solo il basket, solo per il basket, sì, sono proporzioni davvero incredibili, solo la pallacanestro, sì, sì, è impressionante, è impressionante, a questo proposito, Edoardo Lubrano chiede, cosa c'è di incredibile, in positivo nel sistema basket tedesco da copiare, secondo te, e io aggiungo, come stai vedendo i giocatori italiani nel campionato tedesco quest'anno, quindi penso a Vitali, a Bamberg, e ai vostri, alla crescita dei vostri flaccadori e grandi. E' Fonteo d'Alba. Ah, è Fonteo d'Alba, certo. Allora, è difficile dare una risposta, è difficile dare una risposta secca, perché, diciamo che, è un po' come dire, cosa copieresti dall'NBA, L'NBA si fonda, per esempio, sul sistema scolastico americano, tanto per fare un esempio, il dato che, ogni anno, ci sono i 60 collegiali migliori, i 60, diciamo, studenti, o pseudo-tali migliori, che vanno al draft, e il principio di base, è che, ognuno ha accesso a, pari risorse, pari opportunità, sai, il tessuto sociale tedesco, un po' diverso da quello italiano, guardate, la gestione della crisi della Bittania, è quella dell'Italia, io vivo da, vivo da emigrante, quindi, la differenza la vedo, la sento, e l'avverto, sai, ci sono tante strutture nuove, tante strutture, diciamo, di miglioramento, la Liga che, per quanto abbia, dal mio punto di vista, gestito un po' con i piedi, la vicenda della, della top four, e non solo, per il calendario, di cui, a cui facevamo riferimento, poco fa, che per, insomma, la gestione, del caso covid, diciamo, durante, il fine settimana, tutto bene, però, la Lega, oltre a cose buone, meno buone, impone delle, delle restrizioni, e verifica, diciamo, il rispetto, non delle restrizioni, scusa, delle, così, degli standard, e poi ne verifica il rispetto, quindi, per esempio, la disponibilità di una facility, 24 ore al giorno, io ricordo, che quando, il mercato, la palestra di Verrone, e poi alle ore, avevamo sluggito, perché eravano tre, i tre di numero, tre, persone anziane, che dovevano fare, la camminata, ed eravamo, una società di serie A, alla fine abbiamo fatto, una semifinale, quindi, in questo senso, credo che, le differenze, siano sociali, politiche, economiche, e in parte anche culparli, c'è anche cose, comunque, che io copierei dall'Italia, o da altri paesi, per portarle in Germania, facevo riferimento, all'approccio che, per esempio, voglio dire, quello che per noi sarebbero, ciò che per noi sarebbero, conquiste sociali straordinarie, sono di requisiti, e cose date per scontato, dalla società tedesca, abbiamo persone, che prendono anche, diciamo, il congetto parentale, cioè, padri che hanno dei figli, e stanno sostanzialmente, a riposo, per otto settimane, venendo pagate, dallo Stato, cioè, si vedono delle cose, che onestamente, per noi, sono di, proprio di difficile comprensione, accettazione, diciamo, che, cosa che dovrebbe, essere, veramente, copiata e incollata, perché su quello non si transige, e lo dico, lo ripeto, continuerò a dirlo, è la certezza del credito, cioè, uno lavora, uno viene pagato, le persie, che vanno a finire, al battevano, dal campionato tedesco, sono legate, a interpretazioni contrattuali, uno ritiene di aver subito un torto, fa causa, e poi, il, 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 e, sport, diciamo, lega in materia, non capita di sentire, di società che non pagano, per quanto poco possano pagare, tutto quello che promettono, lo pagano, questo, insomma, diciamo che, già una bella differenza, ecco. io volevo, volevo, mh, rivolgerti i complimenti di Stefano Valenti, giornalista cestistico, e capo della comunicazione dell'NNP, che dice, sulla scia di Gerardini, di Maurizio Gerardini, la professionalità e la versione di Baiesi, Coldebella e Alberani, con le loro squadre, tutte tra le prime otto, delle rispettive competizioni europee, perché, ricordiamolo appunto, Bayern, nella final, nei play-off, Alberani, direttore sportivo di Strasburgo, nella final eight, di FIBA Champions League, possiamo già anticiparlo, lo avremo con noi la prossima settimana, e anche Coldebella, in Euro Cup, se non sbaglio, con il locomotive Cuban, Andrea, no? Sì. Finale. E poi, Unix, Unix, Unix-Casani, infatti, hanno battuto il locomotive Cuban, nei quarti, e sono arrivati in finale, hanno battuto in semifinale, la Virtus, e sono in finale adesso, contro Monaco, e disputeranno l'anno prossimo l'Eurolega. Un'altra domanda, invece, abbastanza complessa, di Alessandro Arca, da Sassari, secondo Baiesi, ha senso per una provinciale, per esempio una Dinamo Sassari, investire su un giovane, sapendo che, se poi rende, andrà via per un buy-out, irrisorio, perché, secondo lui, nel basket, non esistono le compravendite di giocatori, e i giocatori siglano, per lo più, contratti annuali o biennali, un sistema del genere, non incrementerebbe la volontà, delle piccole realtà, di investire nei settori giovanili, per poterne avere un ritorno economico importante, in effetti, è una questione filosofica, sul basket, abbastanza importante, il perché dei piccoli contratti, e non degli investimenti, a lungo termine, come nel calcio. Ci vorrebbe una trasmissione solo su questo, credo che la domanda abbia senso, per come la interpreto io, però sia un filo anacronistica, nel senso che, mentre il contesto è un po' cambiato, è che l'investimento a lungo termine, il settore giovanile fa un po' pugni, col fatto che, dopo la seconda sconfitta, un allenatore venga mandato via, non esprimo giudizi, però dico soltanto, voglio dire, mi attengo a quel che vedo, il concetto di investimento, presuppone un evento anche, di allenatori, educatori, eccetera eccetera, lo sviluppo dell'individuo, oltre che allo sviluppo del giocatore, però sai, se poi un allenatore, a un allenatore viene chiesto, il risultato sostanzialmente ogni settimana, ma per quale ragione un allenatore deve, dovrebbe mettere in campo un giovane, sapere come nessuno nasce imparato, probabilmente, sono una confitta in una partita di pallacanestro, quindi, diciamo che è un gatto che si muove, a parte della coda, non credo nemmeno che il problema sia, l'investimento nel settore giovanile, per come vedo io la cosa da lontano, la parte che manca, è la parte intermedia, cioè, lo step intermedio, tra giocatore giovane, che esce da un settore giovanile, e l'ingresso in una lega professionistica, perché è vero che i giocatori devono giocare, ma è anche vero che i giocatori devono allenarsi, soprattutto quelli bravi, e in questo senso, io cito sempre questi esempi, una volta, mi dilungo un secondo, giusto per far capire, il mio modo di pensare, non mi piace parlare per slogan, mi piace di più parlare per, per metafore, o diciamo per esempi concreti, io ricordo che una volta, ci fu un'università molto piccola, che batte Kansas, al primo turno di torneo NCAA, e, credo di averlo anche già detto, mi si scutte con una serie di allenatori, mi ricordo che c'era Giorgio Valli, c'era Cancellino, credo ci fosse anche Trinchieri, tra l'altro, ed eravamo agli europei under 20 a Bilbao, e parlo di dieci anni fa, e fece una provocazione, e disse, visto che è questo qua, che ha vinto il primo turno di torneo, contro Kansas, strafavorita, mi viene rinnovato il contratto, per dieci anni, di fare una provocazione, togliamo il contratto da dieci anni, alla metà del prezzo corrente, per un allenatore italiano, però, devi giocare, l'anno di fatto, con l'equivalente di quelli che sarebbero, dieci, dodici freshmen, per un college, quindi diciamo, perdi tutte le partite, la risposta di tutti gli allenatori presenti, al pranzo, ovviamente, parlavamo, ma non mi dai le uscite, certo che non ti do le uscite, perché se ti do le uscite, decade il senso della proposta, cioè, tu devi vedere, lo sviluppo dei tuoi giocatori, non legato al risultato di break termine, ma a quello che faranno, nei teorici, quattro anni, quando diventano senior, e allora ti puoi andare a giocare, il tuo torneo, con un gruppo di senior, che hai costruito tu, è ovvio, che è una provocazione, la risposta è molto interessante, dal mio punto di vista, perché, l'una cosa esclude l'altra, non puoi averla in tutti i modi, quando si parla di buy out, i risori, dipende dagli accogli, che vengono stipulati, sai, adesso, una partita buona, a 18 anni, si parla di NBA prospect, io sono cresciuto scoutizzando, sono cresciuto come scout, scoutizzando Fondicchio, è diventato adesso, sta facendo una stagione straordinaria, per completare la risposta di prima, però ha 26 anni, ho 95, ed è passato, da giovani, bellissime speranze, passando per Milano, passando per Premona, quello che è stato, per poi finire fuori all'alba, diciamo, dove gli è stata data l'opportunità di tagliare in buonanza, diciamo che certi approcci denotano, insomma, così, certe situazioni denotano un approccio concreto, secondo me, vincente, non è sempre facile mutuarli, però, diciamo che l'idea che c'è alle spalle, secondo me, è quella vincente, non so se, non spiegarmi, io sono un po' appolloso, nell'espressione dei miei conti, concetti, ecco, però, spero di essere stato abbastanza chiaro. Abbiamo compreso, però, a riguardo, mi viene da dirti, tu hai deciso di fare un investimento, ad esempio, su Sasha Grant, lo è anche Flaccadori, quindi, sempre per concludere quella domanda di prima, ti chiedo, come stai vedendo la loro evoluzione, se sei ottimista riguardo il loro futuro, e poi, ti aggiungo una piccola curiosità, se tu dovessi scegliere uno o due giocatori italiani, abbastanza giovani, quindi di prospettiva, che ti porteresti al Bayern, chi sceglieresti, chi ti piace particolarmente del campionato italiano, degli italiani intendo. All'ultima parte della domanda, è evidente che non posso, barra non voglio rispondere, mi perdonerà. Allora immagina per un'altra società, semplicemente puoi parlare di giocatori italiani. Sasha Grant, c'è l'altro, ma a me è piaciuto finora, mi è piaciuto molto, mi diverte di giocare Gabriele Procida, per esempio, però adesso, voglio dire, sembra quasi che io, no, vabbè, mi è capitato di vedere giocare lui, mi è capitato di vedere giocare Tonut, che non è ovviamente più giovane, però è sempre giovane e sono molto contento dalla stagione che sta facendo, perché per me è un eccellente giocatore e ha anche corpo e secondo me non sfigurerebbe senz'altro in Eurolink, per darti, diciamo, due generazioni diverse. Mi piace molto, mi è sempre piaciuto molto Spissu, fin dai tempi in cui Ramagli l'ho presa in A2 alla Virtus e ci vinse il campionato per venire in serie. Ho, diciamo, dato una risposta che riguarda più anni. I miei investimenti sono stati e Sasha Grant vivono realtà molto diverse. Sasha Grant è arrivato che va a 16 anni e Diego è arrivato che di anni ce ne aveva 23, quindi diciamo che in fasi completamente diverse e con un trascorso completamente diverso. Sasha Grant è arrivato che è iniziato a giocare 20 anni e poi di andare a Monaco. Diego aveva già fatto Trento, l'Eurocapla nazionale, eccetera. Diego è rimasto un po' vittima di alcune circostanze come ho spiegato l'anno scorso, legato ai casini che abbiamo avuto e chi devo dire e quest'anno ci ha dato secondo me una grande mano sapendo che giocare una partita sta seduto due per giocarne un'altra poi un'altra e poi tre è tutt'altro facile per un giocatore che cerca continuità. Sasha Grant diciamo che sta assaporando le cose per la prima volta quindi ha iniziato facendo benissimo, molto meglio di tutto di quello che tutti si aspettavano e poi ha avuto un periodo di inevitabile riflusso ed è come uscirà e esce da questo periodo in cui ha battuto un po' in testa che definirà con quale approccio arriverà la prossima stagione. È tutto nuovo per lui e quindi io ho parlato con il suo agente un po' fa che mi diceva un po' nella buca però voglio dire i problemi si devono anche manifestare per poter poi essere risolti e quindi benvenga Sasha Grant che ci batte un po' il muso e voglio dire siamo qui per ora per farlo venire fuori da buca che inevitabilmente ti incontrano prima o poi l'ho incontrato anch'io non nella pallacanestro ma quando mi sono 19 anni non ne avevo 30 quindi quando sono entrato nel mondo del lavoro anche lì tutte le cose erano nuove quindi non ci vedo niente di strano anzi e sono ben contento di potergli dare una mano Sasha è un ragazzo eccezionale devo dire fa anche molto ridere a questo rapporto molto particolare con Andrea vedere gli allenamenti e i modi che hanno di comunicare molto divertente nel senso buono di termine Werther la domanda conclusiva sulla serie insomma su quello che tutti ci aspettiamo io volevo scusate solo per sdramatizzare volevo solo dire visto che ha già creato una piccola colonia di italiani a Monaco volevo dire a Baio che se hanno bisogno di qualche altra figura non so nella comunicazione noi ci siamo specialmente Andrea che parla perfettamente lo farò presente a chi di dovere sensato poi tu parli tedesco esatto benissimo no ma Baiesi è bravissimo non è vero che lui è ampolloso e parla molto lui parla molto perché non vuole farci parlare di domani sera allora Baio facciamo un giochino sai quando eravamo bambini no? che facevamo la squadra io prendo questo tu prendi l'altro così in maniera molto approssimativa io mi prendi playmaker perché penso che io in quanto italiano neanche tifoso dell'Olimpia ma in questo caso ne rivesto il ruolo io mi prendi playmaker ho la prima scelta e tu chi ti prendi? facciamo play guardie ala e lunghi perché c'entri insomma vuoi i ruoli i nomi? come? non ti sento vuoi i ruoli sì io adesso semplifichiamo io dico Milano è più forte ruoli o nomi? no ruoli poi semmai i nomi Milano è più forte nel nel playmaking e tu contrapponi cosa? io io pongo io magari che è il migliore step puoi ripetere scusa che purtroppo la connessione ti ha interrotto puoi ripetere cosa hai detto cosa contrapponi? ho detto io ho detto io contrappongo il magazziniere il nostro magazziniere è un ragazzo straordinario peraltro riportato in Germania dopo anni in Siberia ma manco 30 anni fa una pretattica così si faceva no dai il problema il problema secondo me Werther se posso dire se posso dire una cosa veramente sulla serie Milano Milano ci ha preso ci ha preso appallonate in faccia nel mese di gennaio si evita la differenza di cilindrata tra le due squadre se noi giochiamo la nostra partita la nostra miglior partita 100 volte contro la loro miglior partita 100 volte su 100 è molto semplice è chiaro che poi può capitare nell'arco di una serie di playoff la giornata sbagliata o la giornata felice per qualcuno ci sono incognite però come dicevo poc'anzi per Sasha Grant insomma in buona sostanza non tutto nuovo cioè nessuno di noi sa se una partita del genere e quindi quello che abbiamo fatto finora è sostanzialmente non pensarci nel senso che andiamo con illusione spero vediamo quello che succederà abbiamo la tranquilla già fatta fuori dalla testa perché non vi dicate che siamo stati accreditati del diciottesimo posto in un ipotetico ranking quindi l'ho detto anche Messina in un'intervista di oggi sono partite diverse che vengono approcciate in modo diverso chi li ha già giocati io domani vedrò da Tome e sicuramente lui in quel sicuramente ha qualcosa da insegnare a me per una volta anche se io ho molti meno cappelli di lui e purtroppo qualche anno in più ecco quindi completi profondi fisici hanno i lunghi molto atletici quindi sono d'accordissimo esperienza hanno creatività hanno talento all'inizio sono una scoperta sono d'accordissimo all'inizio hai hai espresso non era solo una frase era anche un concetto importante hai detto noi l'Eurolega l'abbiamo già vinta per la prestazione come hai ricordato adesso e questo io penso che sarà la vera vostra forza nel senso che da quello che ho visto io sì tu hai citato hai citato la partita di gennaio a Milano mi hanno preso a pallonate però io non ho visto nel vostro percorso tranne in due o tre occasioni una squadra a cedere anche nel punteggio in maniera importante ne ho dedotto ne ho dedotto che siete una squadra che non molla mai e quindi che è in grado di mettere in difficoltà una squadra che ha il favore del pronostico ecco secondo me questa caratteristica di essere sempre comunque in qualche modo attaccati alla partita dovrebbe essere la vostra la vostra forza maggiore o no ma guarda lo è stato lo è stato per tutto l'anno perché ho fatto vittorie con uno scarto tale di 24 credo e controllare i dati della classifica quindi vedi che i margini delle nostre vittorie sono sempre stati credo non abbiamo fatto una vittoria di più di 14 punti contro Villa Urbana due vittorie di 11 punti e poi tutte le altre vittorie due uno tre quattro scusa se ti interrompo ma anche quando avete perso con una squadra ma anche quando avete perso non avete quasi mai perso con un divario maggiore di 10 punti sempre inferiore questo è significativo secondo me beh no a Milano tranne Milano a Milano un po' di più guarda guarda la qualità non è che ti brucia più di te Milano e Madrid sono state le due le due sconfitte pesanti no ma io sono guarda io sono due mettiti nei miei anni questa era la squadra che alla vigilia era la più improbabile ed è quella che ti porta in Europa più lontano di tutte quelle che abbiamo avuto sai delle volte quando dicevo poc'anzi credo che serva dovrebbe servire la lezione per noi è un'esperienza così una possibilità di apprendimento per tutti noi e lo dico lo dico sinceramente io finché ritengo di avere da imparare e non ancora da imparare ritengo di avere tanto ancora da imparare questo lavoro mi stimola nel momento in cui ritengo di sapere tutto e allora basta è il momento di ritirarsi e andare a fare altro che non conosco per qua da quest'anno si è insomma si è formata in una qualche maniera tutti parlano della nostra chimica abbiamo gente una cosa che mi ha detto Lucia Lucia per esempio non più che giorno fa è una cosa che non hai pensato mi ha detto io non ho mai giocato in una squadra con tutti americani per me invece è la norma è la regola è capitato molto spesso abbiamo tutti gli anni ne avevamo 4 o 6 alcuni con un background molto dei giocatori che abbiamo adesso quindi come posso dire noi abbiamo questa qualità qui come ho detto andiamo con illusione spero che la prenderemo tutti così perché ci saranno momenti in cui la frustrazione potrebbe prendere il sopravvento che non sia sul caso per noi io di sicuro per me sono ancora incantato dalle opportunità che ho onestamente mi ritengo una persona molto fondata ad avere questo tipo di opportunità e devo graziare ripeto tutti quelli che lo hanno reso possibile e ti ringraziamo tanto Daniele per averlo condiviso con noi noi siamo in chiusura perché abbiamo parlato per più di un'ora e anche bene che tu vada da Trinchieri e chiedergli come è andato l'allenamento e poi magari ci racconterai ad Andrea in privato volevo ringraziare tutti e augurarvi buoni playoff di Eurolega in bocca al lupo in bocca al lupo anche all'Olimpia Milano vi diamo appuntamento noi qui su Daily Basket martedì prossimo alle ore 18 quando ci collegheremo con l'altra sponda del Reno in compagnia di Nicola Alberani che come ho detto è direttore sportivo della SIG Strasburgo che è fresca di qualificazione alle finale di Fibia Champions League grazie ancora Daniele Baiesi alla prossima grazie a voi grazie a voi crepi il lupo grazie a Werther piacere di ritrovarti grazie a voi bocca al lupo Daniele è stata una bella occasione per ritornare alle mie lontane origini con Basket Magazine grazie ancora un abbraccio a tutti ciao Andrea non Basket ma anche Basket Magazine che ringraziamo perché ci hanno condiviso e ci hanno seguito anche loro e Andrea insomma complimenti ma era una figlia era una figliazione era una figliazione Andrea un saluto anche a te ci ritroviamo presto per la prossima puntata sì grazie mille a Baio grazie mille a Werther e a questo punto a martedì prossimo un saluto a tutti grazie ancora per i vostri commenti siete stati numerosi ad averci seguito stasera e ad aver commentato quindi ci vediamo tra una settimana alla prossima alla prossima alla prossima alla prossima la prossima Grazie a tutti.